Come sia andata Bacu lo sappiamo, l'abbiamo visto, ma quando nei primi giri ho visto Verstappen che attaccava Leclerc per sottrargli il secondo posto, mi è venuto un sospetto. Possibile che la Red Bull, velocizzata dal vantaggio di disporre del DRS, non fosse in grado di superare il rettilineo alla Ferrari? E dove aveva preso la F1 75 tutta quella potenza? Aveva del miracoloso quello che la pista stava mostrando, perché Leclerc è un duro, ma Verstappen è un altro che non molla mai una staccata micidiale, eppure non riusciva a mettersi nelle condizioni di poter sferrare l'attacco, tanto che dopo cinque o sei tentativi vani ha desistito. Poi, dopo una dozzina di passaggi, abbiamo visto il grande fumo che arrivava dalla Ferrari e il sogno è svanito. Ma se fosse stato proprio quel surplus di cavalli a tradire Leclerc? Non conosceremo mai la verità, perché in Formula 1 c'è sempre qualcuno che ti insinua che la velocità può essere frutto di soluzioni aerodinamiche, per cui non se ne esce più con questi ragionamenti. Tuttavia, nel caso specifico, la spiegazione di Mattia Binotto è stata eloquente. L'incremento delle prestazioni si paga con l'affidabilità, ha detto. Ed questa è la fotografia esatta di quanto è accaduto in Azerbaijan. Il cedimento della Power Unit Ferrari è da debitare ai progressi che la Ferrari stessa ha fatto e che stava cercando di spingere ancora più in là. Meglio così del resto che avere una macchina che prende un secondo giro come quella di un anno fa, che faceva piangere solo a pensarci. La Ferrari di oggi invece fa paura a tutti, in termini di prestazioni assolute. La macchina è sana, incollata a terra, ha una gran trazione all'uscita delle curve, utilizza bene le gomme, ma adesso, è evidente, ha il suo punto debole nell'unità motrice. Leclerc, con la complicità di un problema elettrico, ha rotto il turbo e altro quando era nettamente in testa a Barcellona. E ha fatto lo stesso quando era nuovamente al comando a Baku. Se ai due ritiri aggiungiamo i 13 punti buttati via con l'errore di strategia a Monte Carlo, ci rendiamo conto di come, in sole tre gare, il panorama del Mondiale sia cambiato, favorendo la fuga di Verstappen e della Red Bull, ma con Perez che, addirittura incredibilmente, è secondo in classifica avendo scavalcato Leclerc. È una situazione paradossale, è chiaro, per la miglior Ferrari degli ultimi 15 anni, ma la Formula 1, bisogna dirlo, non regala niente. Consola, beh, in qualche modo il fatto che la Ferrari abbia imboccato la strada giusta, questo sì, ma adesso i correttivi per il motore potrebbero richiedere parecchio tempo, quando invece già domenica si correrà a Montreal e poi il 3 luglio sarà la volta di Silverstone. Altre due piste, come si usa dire, da motore. La soluzione per difendersi alla meglio c'è ed è a portata di mano, benché dolorosa. Si tratta di ridurre le prestazioni, puntando ulteriormente, ammesso che sia possibile, sull'aerodinamica. Sono compromessi che tutti i team conoscono e che la Ferrari dovrà adottare da subito, con la speranza però che dall'esame del motore di Leclerc Camaranello emerga che a Baku sia stato qualcosa di banale e rimediabile a cedere, altrimenti la Ferrari dovrà per forza di cose soffrire, esercizio nel quale peraltro ha una certa esperienza. Nel frattempo Verstappen gongola, la Ferrari gli ha regalato una trentina di punti a spanne in tre gran premi, ma non si pensi che Max è in testa al mondiale per questo. No, Verstappen non è mai parso tanto maturo, riflessivo, forte e fa molta più paura di quando tirava sempre fuori gli artigli, magari a sproposito, vanificando risultati e prestazioni. È un Verstappen che non sbaglia più e non aspetta. Questo Leclerc lo sa e nella sua amarezza, più che giustificata, c'è il timore di perdere il contatto col rivale. Tornare a casa per tre lunedì di fila col morale a pezzi e tanti rimuginamenti nascosti non aiuta. In più, d'ora in poi, correrà con la psicosi di un altro guasto in agguato. Ci vorrebbe una vittoria quindi per spazzar via angosce e incubi. Montréal è un'occasione ghiotta, è una pista tranello dove può accadere di tutto, compresa la beffa di restare senza benzina alla fine oppure di dover rallentare vistosamente perché i consumi sono elevatissimi. E degustandomi un caffè freddo che mi chiedo perché la sorte, una volta tanto, non potrebbe venire in soccorso della Ferrari. Di questa Ferrari fragile e tenera che, malgrado tutto, è tornata a farci sussultare il cuore.